Finalmente qualcuno che si ascolta, la ringrazio perché è un tabù, per colpa di questo tabù noi ci stiamo arrangiando, però il dolore non può aspettare. Il dolore non può aspettare, è questo il messaggio lanciato da Walter De Benedetto, 48enne a retino, disabile da oltre 30 anni, afflitto da un'artrite reumatoide. Un appello adesso raccolto dal senatore pentastellato Lello Ciampolillo, che si è fatto carico delle richieste del 48enne presentando un disegno di legge. Quattro piante per chi è malato, con la ricetta medica che certifica che quel malato può curarsi con la cannabis, il paziente, il malato, avrà la possibilità di corsivarsi quattro piante a casa. E il problema è risolto. Dobbiamo garantire a loro il diritto di cura che è sancito dalla Costituzione. Quindi io l'hashtag che lancerò è 32 firme. Servono 32 firme per la richiesta di discussione urgente. Io credo che oggi ci siano le condizioni per approvare questa legge. Walter D'Anni, per alleviare i dolori lancinanti con cui deve fare conti tutti i giorni, utilizza cannabis terapeutica. È un farmaco che mi leva i dolori, mi rilassa tanti muscoli, mi aiuta a dormire e mi aiuta a mangiare, mi fa venire appetito. Ma a causa del progredire della sua malattia, la quantità garantita dal Servizio Sanitario Nazionale non è più sufficiente, così ha iniziato a coltivare illegalmente cannabis in una serra, dove alcuni giorni fa hanno fatto eruzioni i carabinieri che hanno arrestato un suo amico beccato ad innaffiare le piante. Purtroppo, vi ripeto, il dolore non può aspettare. Avendo una prescrizione da 1 a 3 grammi, non è che sia stata, a virgolette, isticata la coltivazione, però bastava il buon senso, darmene due e io non avevo fatto tutto questo casino. La storia di Walter è così balzata agli onori della cronaca ed è scattato una vera e propria mobilitazione. Sei mai sentito un fuorileggio? No, nel cuore no. Sono stato con uno stretto che è diverso da una necessità, allora ci sono casi e casi. Walter rappresenta ormai un simbolo di questa battaglia, ma lui è pronto a combattere anche su altri fronti, deciso adesso a riaprire anche l'infinito dibattito sul fine vita. Io rispetto chi è intubato, soffro con chi sta soffrendo, però sono stanco che io non possa decidere per me stesso.